Ciao a tutti ragazzi e bentornati o ben arrivati sul mio canale, sono il next di oggi, siamo qui per completare le sfide della settimana 6 Non le ho ancora viste, ma come avete sicuramente visto dalla miniatura, potremo andare a sbloccare le altre forme di kit Quella mia, quella si, quella mia, quella spettro, quella ombra Adesso andiamo a vedere subito le missioni, per sbloccarlo Eccole qui, diamo kit felice e kit azione Per sbloccare quell'azione dobbiamo completare 40 missioni in totale e ne ho 3, quindi me ne mancano 7 E invece per sbloccare quello felice dobbiamo completare 5 sfide della settimana 6 Ah vabbè, sinceramente mi piace più quello azione Quindi le missioni sono Infliggi danni al pozzo traballa, 500 Ok, elimina parco pacifico, 3 nemici, atterra l'autorità e finisce, e finisce tra i migliori 25 E sarà un po' difficile Prendi un'arma, capanna, catasta, ok Cerca forzieri, 10, questo è facile Cerca forzieri, 100 forzieri E la madonna Consigliato a 4 giocatori Ok, forse questa è più difficile Allora, più difficile sarà bella lunga E cerca le scato di emozioni a Borgo Bislacco Direi di andare in ordine, quindi infliggi danni a Pozzo Traballante Doveva andare qua Sì, ma qui che cacchio ci viene? Cioè, se non è all'inizio della corsa dell'autobus, la vedo un po' difficile Vabbè, dai, iniziamo a saltare una partita e vediamo un po' come va Allora ragazzi, allora Potete capire che è passato un bel po' di tempo Dall'illuminazione della mia camera Sì, perché adesso sono lì Quasi lì, ho manco 10 minuti alle 9 E io per tutto questo tempo ho fatto le missioni E adesso vi faccio vedere cosa ho fatto Cerca forzieri, cerca forzieri, me ne mancano 5 E quella è la missione che mi ha fatto impazzire Vabbè, l'illuminazione per capacità, come me ne manca una Atterra l'autorità e finisci tra 25 Vabbè, il top 25 Prendi un'arma a capanna catasta E cerca la scatola di munizioni a borgobis lacco Ma anche noi stiamo qua Poi, un consiglio per i danni a Pozzo Traballante Io pensavo che dovevo solamente il pre... Cioè, dovevo uccidere solamente i player Invece no, ho ucciso uno squalo e mi ha dato lo stesso alla missione Quindi, se dovete fare questa missione qua, uccidete uno squalo Fate prima Comunque adesso subito in partita a completare la missione Allora, sembra non esserci nessuno Forse questa è la volta buona Forse questa è la volta buona E vaffanculo, no c'è un tizio Basta, non mi arrendo Vado qua Mi arrendo No, non vado qua Vado lì Mi sono rotto le palle Dopo un po' uno si può anche rompere i coglioni Apriamo queste No c'è un tizio qui qua No, da c'è un tizio qui qua E vaffanculo No, 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 mi sono incazzato qua No No Non mi rompere No, 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 no Modifica È vista la squadra Accetta Let's go Qua E anche la fila delle corse dell'autos Cosa vuoi di più da vita? Devo essere il primo ad arrivare Il primo Allora Questa sembra veramente la volta buona Non vedo nessuno Eh sì Sì No, mi sembra vero Perché non mi ha dato la missione? Perché ragazzi non mi ha dato la missione? L'ho fatta la missione Ah, magari mi darà la fine della cosa Mi prendo in giro Ma l'ho capito adesso la missione Cioè ragazzi non ci credo Io ho capito adesso la missione Cosa intendeva Adesso Non devo Non devo prendere l'arma dalla cesta Non devo pescare Cioè quindi io sto spiegando 20 minuti Dalla mia esistenza A cercare di fare quella missione E poi non era esattamente quello che dovevo fare Eh amico Mi dispiace Cioè ci mancava solamente Che era una cana da pesca E che la prendevi tu Guarda Perché non Perché non dicono Pesca un'arma Un attimo Fammi finire Amico il tuo outfit non si può vedere O mai ve lo dissi Decidi No scherzami le biglie Finalmente raga Finalmente Poi dite sta roba Adesso La prima missione l'ho fatta Finalmente direi Ora devo morire Allora ragazzi Questa è l'ultima missione Che mi manca Per sbloccare Kit Quello tutto già Quello kit felice Arrivo perfetto Perfetto A quella porta lì A quella porticina Meglia Perfettissimo Allora Casi di munizioni Dove posso trovare Una che Una qui Perfetto Io col cavolo Che è stata un'altra partita Per andare A prenderla Cioè guarda un po' Se uno deve Ristartare Un'altra partita Solamente per fare Per una cassa di munizioni Una cassa di munizioni Perché non posso neanche andare All'agenzia Qui non siamo In top 25 Ma c'è pure un lama Finalmente ragazzi Teoricamente ho sbloccato Anche l'altra versione Di kit No? E ragazzi Mi ho sbloccato La versione di kit Felice Guardate qua Guardate qua un po' Nella parco pacifico E atterra All'autorità E finisce Tra i primi 25 Mio Addio Non ci credo ragazzi Ho l'amari Boom raga Boom E adesso Prendo l'elicottero E aspetto Di arrivare In top 25 Una persona Una persona È una top Sì ragazzi Top 25 Presa Adesso Voglio Proporre una sfida Se riesco a prendere Quella zipline Al volo Fare una sfida Che Risulterà molto dolorosa Per me Al volo 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 Non ci credo ragazzi Dovrò fare Questa sfida Lo vedrete In un prossimo video Ogni prossimo video Vedrete questa sfida Questa sfida Che farò Tanto il mio Alicottero Né che scende Va Ora io Sprego questi materiali Perché non voglio Darli a nessuno Sinceremente Grandioso Grande 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 Grazie Grazie di mille Chi mi ha ucciso Non mi importa Non ti insulto neanche Perché ho completato La missione Spada boom Kit azione Con Allora abbiamo un po' Bellissimo Equipaggio Equipaggio Avanti Adesso Tutto quanto Il suo Outfit Dov'è kit Eccolo qui Il kit normale Quello Tricolor Poi abbiamo Il kit Felice Cioè Guarda che Belli Guarda il padre Di proprio Il solo Tutto rosa Brillantinoso L'arocobaleno Che gli sputa Dal culo Fantastico E poi abbiamo Kit azione Guardate Tutto tamaro Guardate Che verge Bellissimo Ragazzi Che gli spara Il gas Dal culo Fantastico Tra questi tre Ragazzi Io preferisco Sicuramente Kit azione Perché è bellissimo Riscaters Come anche Anche i picconi Non sono davvero Cioè i piccoli Loppi rossi Sono bellissimi Quelli gialli Quelli rosa Sì anche questi Sono male Ma quelli rossi Sono molto più belli E abbiamo anche Il singolo piccone Il rosso E strafigo E rosa Non mi fa impazzire Beh ragazzi Finalmente 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 Sono passate Ore davanti al computer A cercare Di completare Queste missioni Cioè ero A livello 69 Da quando Ho iniziato A fare le missioni Sono al 76 Adesso Che vabbè Che razza Vabbè Ragazzi Il video Potete rimanere Spero vi sia piaciuto Quindi Visto che ho preso La zipline Dovrò fare Quel video Che lo vedrete Nei prossimi giorni Quindi voi Attirate la campanella Se siete Se siete curiosi E vi dico Sommite una spoiler Dolore fisico Ciao a tutti